Ciao a tutti, questo è il mio progetto di arduino, e uso un sensore ultrasonico, un display, un buzzer, un botto, un servomotor, e ho messo un lego santa claus sull'anno, un cristo di arduino per le luci, se vuoi puoi aggiungere più. Ora l'arduino è in un modo stand-by, e come puoi vedere se vuoi iniziare devi imparare il botto, quindi ho imparato il botto, il display cambia, e la luce riuscita. Ora, se vuoi iniziare le cani e il santa claus, devi mettere qualcosa vicino al ultrasonico, vicino a 10 cm. Quindi, le luci non si trattano, le cani, le cani, il santa claus si trattano, ci sono tre cani diversi, e una funzione random sarà iniziare le luci che si trattano. Ah, e... Poi, se vuoi offrire l'arduino, o i suoi, devi lasciare le mani dall'ultrasonico, e poi, se vuoi offrire l'arduino, o i suoi, devi lasciare le mani dall'ultrasonico, e il mio mod, di nuovo, devi imparare il botto, e poi, se metto qualcosa vicino all'ultrasonico, l'arduino non comincerà. Ciao, ciao!